Aipo d'Argento e Soldoro 2023 in sinergia per la valorizzazione dei migliori oli extravergini di oliva. Fatta la selezione sono stati proclamati i vincitori del ventunesimo concorso internazionale Soldoro Emisfero Nord. Vincitrice del premio Soldoro Challenge 2023 l'azienda agricola Donato Conserva di Modugno Bari e per la categoria Absolute Beginners l'azienda agricola La Notte Pasquale di Trani ancora in Puglia con l'etichetta Racemi. Una partnership perfetta dalla preselezione effettuata dagli assaggiatori Aipo sui 400 eventi campioni di oli extravergini in gara provenienti da Italia, Albania, Cile, Croazia, Grecia, Marocco, Perù, Portogallo, Slovenia, Spagna e Tunisia alla valutazione della giuria internazionale del Soldoro per la scelta dei vincitori nelle categorie extravergine con le classificazioni fruttato leggero, medio e intenso, monovarietale, biologico e DOP. Sentiamo dal direttore di Aipo Enzo Gambin la valutazione di questa sinergia con il concorso di Verona Fiere e le prospettive di collaborazione all'imminente Sol. I due più importanti concorsi oleari internazionali Soldoro e Aipo d'Argento hanno trovato in questo 2023 una sinergia. È stato un successo di partecipazione da parte delle aziende produttrici di olio. Tutto il bacino mediterraneo e l'area si può considerare di tutto il mondo. I giurati che hanno partecipato alla selezione sono stati guidati dal capopanel Marino Giorzitti, sotto l'occhio vigile di un notaio che ha dato prestigio a questa selezione. I vincitori sono già stati annunciati. La collaborazione tra Verona Fiere e Aipo continuerà. All'interno del Sol, Aipo andrà a gestire lo stand Evo Bar dove si andranno ad attuare degustazioni degli oli partecipanti al concorso Soldoro ma anche di tutte quelle aziende che parteciperanno a questa edizione 2023 del Sol. In futuro si manterrà la collaborazione fra Aipo e Verona Fiere. Domenica 2 aprile nel corso della prima giornata di Vinitaly e Sol and Agrifood la consegna dei diplomi alle aziende vincitrici. In occasione dell'Evo Gala Dinner di martedì 4 aprile invece è prevista la consegna dei premi ai vincitori di Sol d'oro, Sol d'argento e Sol di bronzo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.